Un uomo sta passeggiando nel cantiere di una grande cattedrale medievale e incontra uno dei tanti lavoratori di questa cattedrale in uno spaccapietre. È pieno di scarpellini attorno alla cattedrale che lavorano i grandi massi che devono andare a incastrarsi tra le mura, nelle guie, magari nascoste su un pinnacolo e nessuno vedrà mai quella pietra. Quest'uomo incontra uno spaccapietre e gli chiede cosa stai facendo e lo spaccapietre triste dice muoio di fatica su questa pietra per darle la forma giusta ma non ne posso più. L'uomo passa avanti incontra un altro spaccapietre e gli chiede tu cosa stai facendo eh io sto lavorando questa pietra perché grazie a questo lavoro potrò guadagnare del denaro per nutrire sfamare i miei figli portare avanti la mia famiglia e poi c'è l'opportunità di conoscere tante persone si sta all'aria aperta. l'uomo sorride e passa avanti incontra un altro spaccapietre sorridente felice e gli chiede e tu cosa stai facendo? Lo spaccapietre lo guarda e risponde io sto costruendo una cattedrale.